I lunotti di due auto parcheggiate sfondati e senza un apparente motivo. Sta succedendo in via Facciolati nel parcheggio di un supermercato aperto da non molto tempo lungo la via. I vandali hanno agito in pieno giorno distruggendo i cristalli di due utilitarie mentre i loro proprietari stavano facendo la spesa nel discount. Le cause del gesto al momento sono ignote. Non sarebbe da escludere però che il danno sia la reazione violenta a una situazione di traffico pesante e di difficoltà di parcheggio lungo la via che si sarebbero complicate da quando è stato aperto il supermercato che sorge tra l'altro a poche centinaia di metri dall'ospedale Sant'Antonio.